una colazione molto sana iniziamo con la frutta ma è vero che è una cinese da chiamato scemo della naya a me non ho fatto un militare scemo sì ma della naya no ma non è giusto non è preciso siamo sul volo quindi lasciamo sinni si va a merito faccio due ore di video poi cazzo non è schiacciato vai a vedere la inquadra con la cosa l'ha c'è anche il bar che posso essere usate mancare della naya ma come te porno tu aspettate coi oggi voglio cantare la segnalò che sono contenti dei smoker ma poi c'è adesso a parte tutti cioè io non capisco bene l'inglese ma dalle canzoni a volte No, mamma mia no Perché suona così Ma non è bene Ma non ci sono le vocali Ma ci sono delle Ma dove sono quelle consumaglie In 5 words green Da Budi Da Budi Da Budai Ma porca di quella pubazza Mel Mel Mi canti here we are Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.